Radio Bruno Con una nuova denominazione si sono conclusi i primi 60 anni della fondazione Confapi Brescia e questo è il nuovo nome dell'associazione che ha colto nel teatro del Brixia Forum l'evento dedicato all'importante anniversario Ne parla ai nostri microfoni il presidente di Confapi Brescia Pierluigi Cordua Festeggiamo i 60 anni della nostra associazione, una lunga storia che ripercorreremo sicuramente ma da imprenditori cercheremo anche di guardare al futuro, avremo un panel ricchissimo di economisti, di esponenti della politica che cercheranno di farci capire quale sarà il futuro che ci attende quindi cercheremo di parlare del nostro passato ma dare anche qualche prospettiva per il contesto economico dell'anno prossimo Questi 60 anni li riassumiamo in una crescita significativa perché l'associazione ha continuato a evolversi portando sempre nel cuore i temi dei nostri associati, dei nostri imprenditori e sicuramente partecipando adesso attivamente a tavoli di sistema territoriale per cercare di coordinarci per le sfide che si presenteranno per l'anno prossimo e saranno sicuramente complicate Ci si aspetta che almeno la situazione geopolitica tenda a migliorare creando un po' più di stabilità i mercati internazionali si sono un po' ristretti, una volta si cooperava, c'era una cooperazione blocco occidentale e blocco orientale adesso questa cooperazione è più difficile, questo va a chiudere un po' i mercati e quindi a far cambiare i modelli economici però il tessuto dei nostri imprenditori è sempre straordinariamente resiliente sono sicuro che troverà tutte le capacità per affrontare le nuove sfide soprattutto con la scadenza del 2035 per l'automotive è chiaro che noi abbiamo tante aziende che lavorano per le grandi measure dell'automobile tedesca e quelli che chiaramente fanno componenti e motori endotermici dovranno riposizionarsi sul mercato un ruolo strategico della politica, un ruolo strategico delle associazioni datoriali aiutare questo passaggio L'augurio è un augurio di fiducia, di rafforzare le grandi capacità, la grande resilienza del nostro territorio abbiamo affrontato tante sfide nei 60 anni passati e riusciremo ad affrontare le tante sfide che si presenteranno nei 60 anni prossimi grazie 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 grazie